Elezioni supplettive, Giulia Merlo e Cristina Donei lanciano la corsa per il centro-sinistra. Siamo alternativi della Lega, temi come l'ecologismo e i dritti sono fondamentali anche per il Trentino. Il Movimento 5 Stelle punta invece su Cristiano Zanella per le europee, Lorenzo Leoni e Rosa Michela Rizzi per le supplettive nei collegi di Trento e della Val Sugana. Creare sul territorio un'asse Europa, provincia e governo. Scuole sicure, il sindaco di Trento Andreatta smentisce Salvini, non ho mai rinunciato ai finanziamenti. A Trento abbiamo già molte telecamere, i soldi li userò per progetti di sensibilizzazione contro la droga. Viene colpito da una mazza da baseball dal fidanzato di una donna a cui aveva fatto pesanti apprezzamenti. È successo a Rovereto, un uomo è finito in ospedale. Incastrata dalle telecamere mentre ruba fiori e fa i propri bisogni vicino alle lapidi. È successo al cimitero di Tione, denunciata una donna. 7.30, è ora di tornare a casa. È ora di fare la dichiarazione dei redditi. Prenota il tuo appuntamento con Caffacli su www.mycaf.it o telefonando al numero unico 199 199 730. Caffacli, dove tutto è più semplice.